buona giornata amici da massimo fughetti scusate il ritardo questa mattina di pochi minuti stato un piccolo problema tecnico ma ora siamo pronti subito per la nostra rassegna stampa oggi è lunedì 10 gennaio 2022 oggi si festeggia un santo un santo il cui nome si perpetua anche oggi sono molti infatti coloro che si chiamano aldo e si festeggia sant'aldo sant'aldo era un eremita vivendo da eremita di lui non si sa molto si sa che visse nell'ottavo secolo e il suo corpo giace nella cappella di san colombano nella basilica di san michele a pavia era un carbonaio e nella nostra provincia i carbonai hanno lavorato molto specialmente nella zona di apecchio di piobbico dove appunto questa attività era molto molto caratteristica e praticata probabilmente era legato al monastero di bobbio fondato da san colombano poco prima nel 614 oggi il sole nasce alle 7 e 41 e tramonta alle 16 e 51 e vediamo le condizioni del tempo dopo la nevicata di ieri una spolverata sulla costa qualcosa di più nell'entroterra il tempo oggi dovrebbe rimettersi c'è un residuo maltempo sulle marche con nevicate fino a quote molto basse nella notte graduale attennazione dei fenomeni in giornata le temperature sono in calo e si aggirano dai 3 gradi la minima e 9 gradi la massima come avete visto insomma da questi dati non ha gelato questa notte quindi il fondo stradale è percorribile e i vetri delle auto sono liberi dalla brina cominciamo dunque la nostra rassegna snap a partire dal resto del carlino l'esercito dei giovani senza sport da oggi infatti è obbligatorio il vaccino anche per gli allenamenti oltre che per le partite e nella VL resterà fuori il 10 per cento dei ragazzi quindi il basket soffre in modo particolare di questa situazione e qui vediamo una bella foto della provincia sotto la neve ovviamente questa è una foto tratta un po' nell'entroterra dove lo spessore della neve è di più centimetri rispetto alla costa questa mattina le strade erano tutte libere sulla costa invece qualche problema nell'entroterra della provincia vediamo le altre notizie carnevale a Fano in forse le sfilate dei carri a febbraio e a Pesaro a Via Togliatti la federazione Pentathlon contro Ricci screening gratuito per gli alunni delle superiori insomma problematico il rientro a scuola dei nostri ragazzi i dati dei contagi restano alti e si impenna l'incidenza super green pass su bus e treni il nodo degli studenti i presidi sarà un problema ma lo è già un problema infatti lo vediamo studenti su bus e treni solo col super pass controlli a campione e chi è senza non sale oggi infatti scatta l'obbligo verificatori i verificatori sono pronti faranno controlli a campione migliaia usano i mezzi per raggiungere gli istituti cittadini i presidi sarà un problema e lo è veramente Donatella Giuliani dell'istituto Cecchi dice non so cosa accadrà mi aspettavo una proroga chi ci tiene alla frequenza però sicuramente verrà i ragazzi faranno di tutto per tornare a scuola per il preside del Marconi Riccardo Rossini ma che senso ha dice venire a scuola senza vaccino e invece sui mezzi il vaccino è obbligatorio un controsenso per il preside del Mamiani Roberto Lisotti per ora non ho ricevuto dice sollecitazioni dai genitori i problemi c'erano anche quando era obbligatorio il pass normale qualche genitore aveva chiamato e chiesto la DAD ma non la possiamo dare perché la DAD la si dà soltanto a chi è positivo alle quarantene o chi ha difficoltà fisiche moltissimi dei nostri 2150 studenti vengono da fuori Pian di Meleto, Lunano, Valle Metauro oltre che dalla Romagna non so quanti sappiano di questo nuovo obbligo e quindi quanti resteranno fuori o non potranno venire a scuola bella giornata commenta il preside Roberto Lisotti insomma bella giornata in senso ironico i giovani non vaccinati restano senza sport le società perdiamo tanti ragazzi e questo è il rammarico appunto dello sport anche per allenarsi e giocare le partite da oggi è necessario il Super Green Pass per chi ha almeno 12 anni i club fanno i conti la VL ne ha 10 su 90 meno ne ha la Vispesaro ma la situazione è più problematica nelle realtà non professionistiche oppure nelle squadre appunto di quartiere o delle piccole frazioni qui i giovani sono tanti e quindi queste squadre rimarranno senza rinforzi e per quanto riguarda il bollettino delle vaccinazioni nuovi casi positivi sono 189 in provincia uno è deceduto e in regione il tasso di incidenza sale a 840 il deceduto è un 85enne di Valle Foglia che era ricoverato a Marche Nord con patologie pregresse e le classi di età dove più diffuso il contagio sono quelle tra i 25 e i 45 e i 44 anni con 575 casi rispetto al totale degli 840 ed ecco la pagina della neve era immancabile perché la neve crea sempre una suggestione crea sempre atmosfera è un bello spettacolo a vedersi anche se se crea tanti tanti problemi è arrivata la neve ma ancora non fa paura intitola il Carlino imbiancate strade e tetti in città e a Fano, a Pesaro e a Fano disagi all'Edimar e a Cerreto il centro operativo del comune in azione per tutta la giornata il centro operativo del comune di Pesaro mentre non si è attivato quello di Fano il COC perché la situazione non era poi così emergente, precaria come si temeva era prevista ma quando arriva la prima neve dell'anno è sempre allarme rosso per la circolazione e quindi molti sono stati gli interventi che sono stati effettuati con gli spazzaneve a Pesaro e qui vediamo diverse fotografie che evidenziano la situazione piazzale Matteotti uno spazzaneve a Ginestreto e poi ragazzi a Pesaro che giocano con la neve e le strade imbiancate questa è una delle strade di camminate una frazione che è in collina e quindi risente ancora di più dei disagi del fondo stradale imbiancato dalla neve chiude a Durbino le scuole autobluccate sui monti solo entroterra la neve ha causato problemi maggiori intanto l'impianto sciistico sul Nerone annuncia la riapertura per giovedì 13 gennaio si teme il gelo durante la notte all'opera in provincia 70 mezzi spargi sale oggi a Durbino per la neve le scuole sono chiuse alcune auto sono finite fuori strada ieri in varie parti della provincia piste da sci pronti per giovedì sul Nerone con discese illuminate quindi vediamo che ci sono i pro e ci sono i contri i pro perché la neve è bella ed è sciabile e quindi crea divertimento e i contro perché crea problemi sulle strade e le strade possono diventare molto pericolose quindi grande attenzione per chi percorre itinerari ghiacciati e torniamo a Fano dove vediamo che si apre con una polemica oggi sul resto del Carlino è una polemica che rinfocola Teodosio Auspici ex presidente di Asset Holding Teodosio Auspici era anche uno dei candidati a sindaco nelle ultime elezioni amministrative la sua dichiarazione verte sul progetto della Wider al porto di Fano la creazione di un grande cantiere alto 24 metri che crea un considerevole impatto sulla zona adatta alla cantieristica e qui vediamo un rendering un rendering che insomma non guasta però il problema esiste il sindaco Seri è rimandato in geometria e in storia afferma Teodosio Auspici in geometria o in aritmetica perché 14 metri come prevedeva l'attuale PRG a aggiungere a 24 metri insomma il problema aritmetico esiste storia perché insomma questo piano regolatore era stato realizzato tempo addietro ai tempi di Carnaroli poi era stato convalidato da Stefano Aguzzi e Seri dice Teodosio poteva cambiarlo se voleva ma non l'ha fatto insomma diverse polemiche e vedremo oggi il senso della conferenza stampa che ha convocato la Wider che spiegherà senz'altro le sue ragioni e illustrerà in più dettagli il suo progetto Carnevale 2022 in forse le sfilate dei carri a febbraio è già con la situazione del covid che ci ritroviamo è difficile programmare una manifestazione che necessita di un grande affollamento come il Carnevale di Fano questa settimana ci dovrebbe essere un incontro tra l'assessore al turismo Etienne Lucarelli e la presidente della carnevalesca Maria Flora Gianmarioli anche se sembra ormai assodato che le sfilate dei carri nel domeniche del 13, 20 e 27 febbraio queste erano le date programmate non si potranno svolgere e chissà forse anche quest'anno vedremo il Carnevale di Fano spostato in estate tamponi agli studenti pochissimi positivi questo a pergola sono 174 i bambini e i ragazzi esaminati i positivi sono stati 4 pari al 2,3% torna anche il camper per fare il vaccino questa è la situazione e poi qui vediamo il compleanno di una centenaria anzi di una super centenaria ha compiuto 102 anni abita a Fossombrone e si tratta della signora Mafalda Antonioni e veniamo ora alle notizie che pubblica il Corriere Adriatico a partire dalla pagina di Fano 10 ristoranti chiusi per il Covid Ricci, situazione molto critica Giorgio Ricci che è titolare del Ciles Bistro è presidente di Ristoritalia Ricci segnala le difficoltà dei ristoranti costretti a chiudere per le quarantene del personale che non è sostituibile e quando in un ristorante viene a mancare perché è positivo un cuoco magari c'è solo quello l'unica possibilità è quella della chiusura ecco perché molti ristoranti si trovano in difficoltà alcuni sono in ferie quindi sono chiusi per cause normali altri invece sono costretti a chiudere perché appunto il personale è stato dichiarato positivo oppure è in quarantena una difficoltà questa di un settore che ha subito molto i problemi le conseguenze delle norme coercitive che sono state varate per combattere la pandemia anche Fano si imbianca disagi nelle frazioni vediamo alcuni aspetti della neve a Fano ma soprattutto hanno sofferto le frazioni in collina come Magliano, San Cesareo, Caminate e soprattutto Carignano ieri comunque l'apparato della protezione civile messo in allerta dal vice sindaco Cristian Fanesi ha funzionato sono stati in minazione tre mezzi spazzaneve diversi mezzi spargisale che hanno lavorato soprattutto nelle vie di maggiore traffico via Mattei, via Inaudi, l'Interquartieri i tratti urbani della statale adriatica le opere compensative qui il traffico è stato messo in sicurezza con lo spargimento del sale che scioglie il ghiaccio e poi si parla ancora delle necessità delle istanze dei concessionari di spiaggia oggi sul Corriere Adriatico dopo l'avvenuto a Fano di Maurizio Gasparri nella giornata di sabato qui si elencano le istanze che la categoria tramite l'Oasi Confartigianato ma anche tramite la CNA e tutte le altre rappresentanze appunto dei bagnini invieranno al governo perché oggi c'è l'incontro con i ministri nel corso del quale si cercherà appunto di spostare questa data fissata dal Consiglio d'Estate nel dicembre del 2023 al 2033 come si era preordinato in precedenza spiagge, deroga fino al 2033 e indennizzo per gli investimenti le richieste principali dei concessionari in regione e al governo Draghi l'ASET conferma la raccolta ma i rifiuti restano in strada a Fossombrone i cassonetti sono strapieni nonostante l'invito a esporli in Epifania quindi un disservizio che alcuni residenti denunciano per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani invece a terre roveresche spuntano sberleffi sui cartelli stradali frasi e disegni di scherno vicino a schieppe di Orciano e qui ne vediamo uno con una scritta con un penarello vediamo se si legge qualcosa insomma il dosso diventa salto mortale ecco qui vediamo il dosso e la scritta che appare su questo cartello vediamo anche la pagina di Urbino neve e ghiaccio autobloccate sul Nerone in cinque comuni oggi le scuole restano chiuse sono i comuni di Urbino Frontone Pergola Serra e San Lorenzo in campo che rimarranno senza lezioni a causa della neve un provvedimento che i sindaci hanno preso appunto per limitare i disagi appunto dei ragazzi cartellone Novax il sindaco non potevo impedire la fissione e il sindaco Feduzzi di Fermignano qui si è vaccinato l'83% dei cittadini Burioni i babbei sono ovunque afferma il tecnico e qui vediamo uno dei manifesti che ha destato delle polemiche appunto a Fermignano vediamo ora la pagina di Senigallia dove si parla anche qui di neve ed è uno spettacolo vedere la spiaggia di Velluto imbiancata dalla neve strade caos chiuse le scuole nella vallata scontro con tre feriti a Brugneto nella Corinaldese da Arcevia a Corinaldo oggi niente lezioni insomma c'è anche un incidente che forse è stato causato dalla neve forse no adesso l'inchiesta è in corso comunque una jeep si è scontrata frontalmente con un furgone Fiat Ducato e nell'impatto è rimasto coinvolto anche un altro mezzo una Nissan Qashqai quest'ultima macchina ha riportato solo danni mentre gli occupanti degli altri due mezzi sono rimasti feriti e sono stati portati all'ospedale Focolaio dopo la vacanza in montagna cinque contagiati siamo sempre a Senigallia colpite dal virus tre famiglie all'ospedale il reparto Covid si allarga da 18 a 26 posti anche qui c'è l'esigenza appunto di ampliare le cure per i positivi e vediamo ora la pagina di Pesaro sul ah no prima vi voglio fare vedere questa pagina regionale perché la regione Marche ha la facoltà di nominare tre grandi elettori per la elezione del presidente della Repubblica e ovviamente è un incarico ambito questo molti vogliono partecipare a questo grande consesso che vedrà mille elettori in Parlamento eleggere il nuovo presidente grandi elettori la grana del PD e Cesetti candida la Mancinelli allora chi saranno questi grandi elettori senz'altro si pensa che sia il presidente della regione Acquaroli e ovviamente il più rappresentativo poi si fa il nome di Dino Latini che è presidente del consiglio regionale ma non è detto non è detto perché la Lega che fa parte sempre della maggioranza con otto seggi potrebbe nominare potrebbe optare per un elettore diverso e in questo caso si fa il nome di Mirko Carloni o del capogruppo Renzo Marinelli ma è nel PD insomma che c'è più fervento più polemiche insomma ci sono otto consiglieri tutti quanti ciascuno anzi vorrebbe far parte di questa piccola squadra e quindi ci sono dei contrasti e ne parla ne apparla appunto il consigliere Cesetti che fa il nome non di un consigliere regionale ma del sindaco di Ancona Mancinelli che potrebbe rappresentare degnamente la nostra regione e dicevo guardiamo ora la pagina di Pesaro e si parla anche qui delle difficoltà del trasporto pubblico sul bus con il Green Pass rafforzato più controlli a bordo e alle fermate il trasporto scolastico la Polizia Municipale fuori dagli istituti del Campus e al Santa Marta genitori Novax e le soluzioni alternative per aggirare l'ostacolo facciamo delle macchinate insomma non ci si serve più del bus scolastico ma i ragazzi vengono portati a scuola sulle auto dei loro genitori intanto viene posticipata il 10 febbraio la richiesta del certificato verde per gli scuolabus e la previsione del direttore Benedetti Massimo Benedetti si parla di Ami il direttore Benedetti calerà sicuramente dice il numero dei passeggeri presidi e sindaci in allerta qui navighiamo a vista ancora dichiarazioni dei dirigenti scolastici sui giornali questa mattina per le difficoltà che incontra l'azione didattica incertezze sulle presenze dei docenti sulla efficienza del tracciamento affermano appunto i presidi dovremo valutare se riusciremo a compensare gli orari dei professori assenti ah sì perché poi è difficile che uno faccia le veci di un altro oppure occorrerà assumere altre persone e devono essere tutte vaccinate vaccinazioni Alex e Aristò aumentano date e orari è stata rimodulata tutta l'attività del lab profilassi possibile per 110 persone all'ora c'è un'impegnata per le regole del trasporto e la scadenza ridotta della seconda dose è il primo effetto delle nuove regole varate dal governo il 5 gennaio scorso con l'entrata in vigore a step a gradini a partire da oggi fino al 20 gennaio e dal primo febbraio con l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 insomma questo obbligo poi metterà ancora di più in difficoltà i centri vaccinali il comune resti fuori la partita riguarda solo noi e casa WL questo è un articolo che riguarda il caso Pentathlon Pesaro il gestore la federazione perché si è intromesso lente l'interrogativo ora Ricci faccia le sue mosse ma la federazione ha già mobilitato i suoi avvocati e qui vediamo appunto l'entrata del centro Adriano Facchini ancora sul Corriere Adriatico vediamo la pagina di Vallefoglia dove si parla del degrado per le cave fluviali dismesse aree che devono essere recuperate e in questa piantina vediamo l'indicazione delle cave in provincia di Pesaro Urbino sono rosse non so se si vede appunto nello schermo sono rosse quelle attive e azzurre quelle inattive magari la mappa è troppo piccola da Monbaroccio a Fano il percorso delle meraviglie si tratta della ciclo Arzilla un itinerario tra mulini chiese prodotti d'eccellenza a cui tiene molto il sindaco appunto di Monbaroccio il sindaco Emanuele Petrucci il quale ha già concordato questa iniziativa con il sindaco di Fano Massimo Seri in quanto appunto è una iniziativa è una infrastruttura che interessa molto anche la città di Fano concludiamo con la notizia di sport vediamo sul resto del Carlino serie C c'è anche un'altra classifica ecco chi vince con gli under il loro utilizzo porta risorse fondamentali sarebbero i giovani quelli che sono ancora alle prese con la didattica del calcio ma va bilanciato con i risultati in campo meglio di tutti va a Lancona Quinta su entrambi i fronti la Vis Pesaro viaggia nel mezzo e in questa classifica vediamo appunto la posizione della Vis Pesaro Catalano il Fano ha lo spirito giusto ebbene in questa pausa del campionato si cerca di rinforzare la squadra il tecnico comunque è soddisfatto del lavoro con la squadra al di là del covid la squadra sta facendo bene vedo tanta applicazione ha detto vediamo anche il basket VL in palestra ma quanti non si sa oggi termina la quarantena per i giocatori della VL per una parte degli uomini di banchi ma c'è il nuovo passaggio a livello dei tamponi e i tamponi potrebbero dare una risposta magari non prevista questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento noi ci rivediamo poi domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle 20 e 30 su Fano TV vi invito appunto ad ascoltare il Lette G questo è tutto buona giornata Grazie a tutti